Siano lodati Gesù e Maria, cari guerrieri della preghiera, nel corso di questo ritiro quaresimale faremo un viaggio di sviluppo spirituale imparando a conoscere le quattro virtù cardinali della temperanza, prudenza, giustizia e fortezza. Nel contesto dei messaggi del Libro della Verità impareremo l'importanza di sforzarsi per acquisire e mettere in pratica queste virtù su ciò che Gesù chiama la scala verso la perfezione spirituale. Iniziamo questo ritiro il cui tema è il servo buono e fedele. Esamineremo le virtù della temperanza, prudenza, giustizia e fortezza in relazione alla crescita spirituale e alla preparazione materiale nella missione della salvezza, alla luce dei messaggi del Libro della Verità. Attraverso un breve momento di preghiera chiediamo che lo Spirito Santo ci aiuti a fare nostre le parole che ascolteremo. Preghiera della crociata numero 33. La preghiera del sigillo del Dio vivente. O mio Dio, Padre mio amorevole, accetto con amore e gratitudine il tuo divino sigillo di protezione. La tua divinità avvolge il mio corpo e la mia anima per l'eternità. Io mi inchino in umile ringraziamento e ti offro il mio profondo amore e la mia fedeltà, mio amato Padre. Ti supplico di proteggere me e i miei cari con questo sigillo speciale e impegno la mia vita al tuo servizio per sempre. Io ti amo, caro Padre. Ti consolo in questi tempi, caro Padre. Ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, in espiazione dei peccati del mondo e per la salvezza di tutti i tuoi figli. Amen. Preghiera della Crociata numero 51 per il dono dello Spirito Santo. O vieni, Spirito Santo, versa i tuoi doni di amore, saggezza e conoscenza sulla mia umile anima. Riempimi con la luce della verità, così che io possa discernere la verità di Dio dalle menzogne diffuse da Satana e dai suoi angeli. Aiutami ad impugnare la fiaccola e a propagare la fiamma dell'intendimento a tutti coloro che io incontro, mediante Cristo, nostro Signore. Amen. Preghiera della Crociata numero 74 per il dono del discernimento O Madre di Dio, aiutami a preparare la mia anima per il dono dello Spirito Santo. Prendimi per mano come un bambino e conducimi sulla via verso il dono del discernimento, attraverso il potere dello Spirito Santo. Apri il mio cuore e insegnami ad abbandonarmi nel corpo, nella mente e nell'anima. Liberami dal peccato di orgoglio e prega che io sia perdonato da tutti i peccati del passato, affinché la mia anima sia purificata e io venga guarito per poter ricevere il dono dello Spirito Santo. Ti ringrazio, Madre della Salvezza, per la Tua intercessione e attendo con amore nel mio cuore questo dono a cui anelo con gioia. Amen. Ora esamineremo le virtù umane, così come ci vengono presentate in diverse fonti, quali il Santo Vangelo, il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Libro della Verità. Vangelo di Matteo 7, versetti 24-27 I veri discepoli Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, Soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa Ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, Soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa Ed essa cadde, e la sua rovina fu grande La mia parola è la mia parola Nessun uomo può difendere la mia parola Perché è scolpita nella pietra Lunedì 2 luglio 2012 Mia amatissima figlia, È importante che i miei seguaci rimangano pazienti Non si deve mai mettere fretta al futuro I piani stabiliti dal mio Eterno Padre Si evolveranno in modo naturale Secondo la Divina Provvidenza Il tempo che vi è stato accordato Per aiutarmi a preparare l'umanità Per la mia grande misericordia È molto prezioso È un tempo in cui molti saranno salvati Per mezzo delle vostre preghiere La speranza, la fede e l'amore per me Il vostro amato Gesù Vi sosterrà nella vostra missione Quando sarete testimoni Delle atrocità dinnanzi a voi Quando ogni cosa che si erge in mio onore Sarà stata distrutta Allora saprete che il momento si sta avvicinando Dovete ricordare che queste cose devono accadere E che il vostro dovere è che il vostro dovere è quello di combattere e resistere al nemico Come parte del mio esercito La mia armata Sarà equipaggiata di doni divini E trascinerà con sé coloro che sono nelle tenebre La preparazione richiede tempo La preghiera La preghiera vi porta più vicino al mio sacro cuore Ed inonda le vostre anime dell'ossigeno Di cui avrete bisogno per sopravvivere all'aveniente battaglia Man mano che diventate più forti Mediante le grazie che io vi do Diventerà molto facile identificare i vostri nemici Che odiano tutto ciò che io rappresento Questo vi causerà sofferenza, dolore e rabbia Ma dovete rimanere dignitosi nel mio nome in ogni momento Quando venite sfidati nel mio nome Dovete rispondere con amore Non cercate mai di analizzare i miei messaggi Perché non avete bisogno di farlo La mia parola è la mia parola Nessun uomo può difendere la mia parola Perché è scolpita nella pietra Qualsiasi uomo che cerchi di infrangere la mia parola O di diffamarla Fallirà perché è impotente contro la mia santa parola Adesso che conoscete la mia voce Conoscerete il dolore che dovete aspettarvi di sopportare Quando proclamate la mia parola in questi tempi Menzionate il mio nome oggi Persino tra i sedicenti cristiani E ci sarà un silenzio imbarazzante Parlate apertamente del bene e del male E sarete scherniti Sottolineate il modo in cui il peccato Può distruggere i vostri figli E vi verrà chiesto Cos'è il peccato? Oggi molti non sanno cosa sia il peccato Molti accettano il peccato Come una parte normale Una caratteristica accettabile Nella loro vita Sono felici di giustificare il peccato Perché questo Da loro la libertà di perseguire altri piaceri Idolatrare falsi dèi E soddisfare le loro voglie No Essi non vogliono ascoltare Perché questo non fa per loro Voi Miei amati discepoli Sarete visti come ossessionati Dall'amore per la religione E dall'amore per Dio Che oggi porta pochi frutti Agli occhi dei ciechi Ecco perché dovete prepararvi Ecco perché dovete essere forti Sarà proprio per queste anime Che dovrete pregare E aiutarmi a salvare Permettere a tali anime Di turbarvi Ferirvi O insultarvi E una perdita di tempo Rispondete con amore E un dignitoso silenzio Non abbiate mai paura di proclamarmi Ma non imponete mai me Alle anime In modo tale da farle fuggire Lontano da voi Piuttosto Portatele a me Attraverso le vostre preghiere E sofferenze Io ti benedico Mio forte E coraggioso esercito Ti amo Cammino con te Ad ogni passo che sali Per portarmi le anime Il vostro amato Gesù Cristo Vangelo di Matteo 18 Versetti 1-5 Chi è il più grande? In quel momento I discepoli Si avvicinarono a Gesù Dicendo Chi dunque è il più grande Nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino Lo pose in mezzo all'ora e disse In verità vi dico Se non vi convertirete E non diventerete come i bambini Non entrerete nel regno dei cieli Perciò Chiunque diventerà piccolo Come questo bambino Sarà il più grande Nel regno dei cieli E chi accoglie anche uno solo di questi bambini In nome mio Accoglie me Dal Catechismo della Chiesa Cattolica Le virtù umane Paragrafo 1804 Le virtù umane Sono attitudini ferme Disposizioni stabili Perfezioni abituali Dell'intelligenza E della volontà Che regolano i nostri atti Ordinano le nostre passioni E guidano la nostra condotta Secondo la ragione e la fede Esse procurano facilità Padronanza di sé e gioia Per condurre una vita moralmente buona L'uomo virtuoso È colui che liberamente pratica il bene Le virtù morali Vengono acquisite umanamente Sono i frutti e i germi Di atti moralmente buoni Dispongono tutte le potenzialità Dell'essere umano Ad entrare in comunione Con l'amore divino La mia agonia nel giardino Viene rivissuta ancora una volta Ed in me è raddoppiato il dolore Della sofferenza Mercoledì 30 maggio 2012 Sarete come una nuova recluta Di un qualsiasi esercito Avrete bisogno di allenarvi Rinvigorire le vostre anime E venire a me Attraverso i sacramenti Prima di divenire abbastanza forti E sufficientemente coraggiosi Per diffondere la mia santa parola Il vostro amato Salvatore Redentore dell'umanità Gesù Cristo Vangelo di Matteo 9 Versetti 16-17 Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza Su un vestito vecchio Perché il rattoppo squarcia il vestito E si fa uno strappo peggiore Ne si mette vino nuovo in otri vecchi Altrimenti si rompono gli otri E il vino si versa E gli otri van perduti Ma si versa vino nuovo in otri nuovi E così l'uno e gli altri si conservano La sola acqua necessaria Per la sopravvivenza dei figli di Dio Verrà dall'albero della vita Venerdì 10 maggio 2013 Il mio desiderio è che i miei seguaci ora Si preparino a salire la scala Una lunga e difficile salita Verso la perfezione spirituale Quelli di voi che sono stati benedetti Con il dono del discernimento Tramite la mia voce Contenuta nel libro della verità Hanno un dovere verso di me Questo è ciò che dovete fare Servitevi del dono che io vi ho dato Per prepararvi alla perfezione spirituale Che viene richiesta da voi Mentre ora io edifico il mio esercito rimanente Sulla terra La vostra responsabilità È quella di aiutare coloro Che sono troppo deboli Troppo orgogliosi E troppo testardi Per accettare la mia mano di misericordia Sarà attraverso di voi Che io sarò in grado di concedere A tutte le anime Compresi coloro Che non sono degni Della mia misericordia La salvezza necessaria Per vivere per sempre Nella mia gloria Il vostro Gesù Preparatevi per l'avvertimento L'illuminazione della coscienza Venerdì 28 gennaio 2011 Siate preparati figli In ogni momento Mantenetevi in stato di grazia E tenete i vostri cuori aperti Ai miei insegnamenti D'amore e pace sulla terra Se tutti i miei figli Avessero seguito i miei insegnamenti Allora Non ci sarebbero state le guerre L'avidità L'odio O la povertà nel mondo Avete bisogno Di sedervi con calma Ognuno di voi Solo per una mezz'ora al giorno Rileggete i salmi Le parabole E chiedetevi Questa lezione Può applicarsi Alla mia vita Nel mondo d'oggi? Voi Sapete che la risposta è Ovviamente Sì Il vostro amorevole Salvatore Gesù Cristo Lettera ai Colossesi 3 Versetti 1-4 L'unione con il Cristo celeste Principio della vita nuova Se dunque siete risorti con Cristo Cercate le cose di lassù Dove si trova Cristo assiso Alla destra di Dio Pensate alle cose di lassù Non a quelle della terra Voi infatti siete morti E la vostra vita È ormai nascosta con Cristo in Dio Quando si manifesterà Cristo La vostra vita Allora anche voi Sarete manifestati con Lui nella gloria Madre della salvezza Non potete incontrare mio figlio fisicamente Ma riuscirete a conoscerlo Sotto tutti i punti di vista Sabato 16 agosto 2014 Quando voi amate veramente mio figlio Diventerete umili come Lui E con un ardente desiderio di servirlo Costi quel che costi Alcune anime Raggiungono il cammino della perfezione spirituale Ma non riusciranno a completare questo viaggio Finché non riporranno tutta la loro fiducia in Dio Se un'anima vacilla lungo la strada Le verranno concesse le grazie necessarie Per rialzarsi E continuare nel suo cammino Tuttavia Se un'anima dovesse misurarsi Con mio figlio E considerarsi degna di sfidare La parola fatta carne Allora Si separerà da Dio La persona che trova Gesù Durante la vita su questa terra E lo serve fedelmente Avrà pace Nient'altro al mondo lo soddisferà mai altrettanto Se un'anima Essendo divenuta intima con mio figlio Dovesse poi separarsi da lui Patirebbe un dolore terribile Vivendolo conosciuto E vissuto nel suo cuore Questo dolore della separazione da mio figlio È il peggior dolore conosciuto dall'uomo Quando siete tentati di sfidare gli insegnamenti di Cristo O quando venite obbligati a rigettarlo in qualche modo Sappiate che niente di questo mondo Potrà mai portarvi la pace L'amore o la gioia che vengono da lui Vostra amata madre Madre della salvezza Vangelo di Matteo 11 Versetti 25 e 27 Gesù ringrazia suo padre In quel tempo Gesù disse Ti benedico, o padre, Signore del cielo e della terra Perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti E agli intelligenti E le hai rivelate ai piccoli Sì, o padre, perché così è piaciuto a te Tutto mi è stato dato dal padre mio Nessuno conosce il figlio se non il padre E nessuno conosce il padre se non il figlio E colui al quale il figlio lo voglia rivelare Come entrare in cielo Il ruolo della sofferenza Venerdì 14 gennaio 2011 Tutti i miei figli che stanno iniziando il loro cammino spirituale verso di me Ora che comprendono la verità L'umiltà è una parola che molti dei miei figli capiscono attraverso i miei insegnamenti Sebbene molti dei miei seguaci comprendano perché sia importante Sono confusi su ciò che realmente implica L'umiltà significa sincerità Significa accettare con degnità le prove Le sfide e gli abusi che vi troverete ad affrontare Specialmente quando verrete nel mio nome Il mio miglior consiglio è questo Pensate a voi stessi come a un fanciullo Un bambino semplice e innocente Senza alcuna conoscenza della società malvagia Che normalmente sperimentereste come adulti Comunicate sempre nelle vostre preghiere a me Mediante gli occhi e il cuore di un bambino Mantenete semplici sia le preghiere Sia il modo di comunicare Non mi aspetto che voi recitiate tutte le preghiere Che sono state tramandate per amore al mondo Alzate lo sguardo E condividete i vostri problemi con me Condividete le vostre sofferenze Passateli a me Sarete grandemente ricompensati Qualora accettiate il dolore o le sofferenze Nelle vostre vite per me Potreste non rendervene conto Ma se accettate Voi state salvando molte anime E state spianando la strada per loro Per entrare nel paradiso Questo fatto non vi sarà rivelato Fino a quando anche voi non sarete entrati nel paradiso Dove sperimenterete la gloria Del vostro generoso dono Nei miei confronti Il vostro amato Maestro e Salvatore Gesù Cristo Uno con Dio L'Eterno Padre E lo Spirito Santo Preghiera per diventare piccoli Venerdì 2 marzo 2012 Padre Celeste Aiutami a diventare piccolo Come un bambino Ai tuoi occhi Chiedo Che le tue grazie Siano riversate su di me Così Che io possa rispondere Alla tua chiamata Per salvare tutti I tuoi figli Amen Vangelo di Matteo 11 Versetti 28-30 Venite a me voi tutti Che siete affaticati e oppressi E io vi ristorerò Prendete il mio gioco sopra di voi E imparate da me Che sono mite e umile di cuore E troverete ristoro per le vostre anime Il mio gioco infatti è dolce E il mio carico leggero Portare la mia croce Domenica 16 gennaio 2011 Tornate indietro Miei figli E riscoprite i miei insegnamenti Riportatemi nelle vostre vite Accoglietemi nei vostri cuori Ancora una volta Così che io possa stringervi Tra le mie braccia Lasciate che io vi guidi Verso la perfezione spirituale In modo che siate preparati Per la vita eterna Quando la terra e il cielo Emergeranno Come una cosa sola Imitate me figli miei Nelle vostre vite di ogni giorno Prendete la mia croce Anche quando nel farlo L'onere potrebbe sembrare eccessivo Non abbiate mai paura Di accettare la mia croce Poiché io permetterò Che voi portiate Solo ciò Di cui siete capaci Il vostro amorevole Salvatore Gesù Cristo Dal Catechismo della Chiesa Cattolica Le virtù cardinali Paragrafo 1805 Quattro virtù hanno funzioni di cardine Per questo sono dette cardinali Tutte le altre si raggruppano attorno ad esse Sono La prudenza La giustizia La fortezza E la temperanza Se uno ama la giustizia Le virtù sono il frutto Delle sue fatiche Esse insegna infatti La temperanza E la prudenza La giustizia E la fortezza Sotto altri nomi Queste virtù Sono rodate In molti passi Della scrittura Paragrafo 1809 Vivere bene Altro non è che amare Dio Con tutto il proprio cuore Con tutta la propria anima E con tutto il proprio agire Gli si dà Con la temperanza Un amore totale Che nessuna sventura Può far vacillare E questo mette in evidenza La fortezza Un amore che obbedisce a lui solo E questa è la giustizia Che vigila al fine E discernere ogni cosa Nel timore Di lasciarsi sorprendere Dall'astuzia E dalla menzogna E questa è la prudenza Ora passiamo a considerare Le virtù cardinali E la preparazione materiale E spirituale Nel libro della verità Iniziamo con la virtù Della temperanza Dalla prima lettera Di Giovanni 2 Versetti 15-17 Non amate Nel mondo Nelle cose del mondo Se uno ama il mondo L'amore del Padre Non è in lui Perché tutto quello Che è nel mondo La concupiscenza Della carne La concupiscenza Degli occhi E la superbia Della vita Non viene dal Padre Ma dal mondo E il mondo Passa con la sua Concupiscenza Ma chi fa la volontà Di Dio Rimane in eterno Dal Catechismo Della Chiesa Cattolica Paragrafo 1809 La temperanza È la virtù morale Che modera L'attrattiva Dei piaceri E rende capaci Di equilibrio Nell'uso Dei beni creati Esse assicura Il dominio Della volontà Sugli istinti E mantieni I desideri Entro i limiti Dell'onestà La persona temperante Orienta al bene I propri appetiti Sensibili Conserva Una sana discrezione E non segue Il proprio istinto E la propria forza Assecondando I desideri Del proprio cuore La temperanza È spesso rodata Nell'Antico Testamento Non seguire le passioni Poni un freno Ai tuoi desideri Nel Nuovo Testamento È chiamata Moderazione Sobrietà Noi dobbiamo Vivere con Sobrietà Giustizia E pietà In questo mondo Possiamo vedere In gran parte Del mondo Di oggi Come il valore Per l'anima Di combattere La tentazione E costruire La virtù Venga sminuito Dimenticato Ed eriso Incluso in certi ambienti Della Chiesa Le leggi Vengono promulgate Per consentire Ogni tipo di peccato Contro Dio Satana E i suoi demoni Stanno attaccando Duramente L'umanità Con la tentazione Di dare Priorità Al vizio E all'amore di sé Avverso All'edificazione Della virtù La virtù Della temperanza Ci aiuterà Ad avere ordine E purezza Nella nostra vita Ci aiuterà A obbedire Ai dieci comandamenti E a resistere Alle tentazioni Della mente E della carne Come Pensieri E azioni impuri Indulcere Troppo Nel cibo Nelle bevande Nella tecnologia E inseguire Altre profezie Dannose Per l'anima La temperanza Ci manterrà Attenti Ad operare Con semplicità Di cuore E di mente Nella nostra vita Quotidiana E nel nostro lavoro Per la missione Di salvezza Il Signore Parla Dell'importanza Di liberare Noi stessi Dalle occupazioni Mondane E dalle tentazioni O di purificare La nostra anima In preparazione Dell'avvertimento E alla sua Seconda venuta L'importanza Del digiuno E del sacrificio Lunedì 16 maggio 2011 Figli Dovete capire Che la fede Nella mia esistenza È solo una parte Del vostro cammino Spirituale C'è molto altro Che avete bisogno Di comprendere Sarà solo Attraverso Il vostro Rifiuto Dei piaceri Della carne Che sarete Veramente Soddisfatti In virtù In virtù Del fatto Che Satana Controlla L'uomo Attraverso Le tentazioni Della carne Voi dovreste Negargli L'accesso A quei piaceri Che potreste Invece Ricercare Il digiuno È uno Dei modi Più potenti Per liberare La vostra Anima Da Satana E dai suoi Demoni Pochissime Persone Al mondo Si impegnano A fare Questo Sacrificio Eppure È così Semplice E non Danneggia La vostra Salute Un giorno Di digiuno Alla settimana Vi porterà Delle grazie Speciali Facendo Dei piccoli Sacrifici In mio onore Il vostro Divino Salvatore Non solo Salverete Le anime Ma vi avvicinerete Di più A me Gli altri Sacrifici Con cui Rinunciate Ai beni Terreni Vi porteranno Altresì Più vicino Al mio Sacro Cuore La vita Figli miei Non dovrebbe Essere Tutta Incentrata Sulla Ricerca Di cose Materiali Se queste Sono In eccesso Dei vostri Reali Bisogno Accettando I bisogni Elementari E dedicando Il vostro Tempo A me Proverete La vera Contentezza Non solo Ma per la prima Volta Nella vostra vita Comprenderete Il significato Della vera libertà Ricordate Satana Satana controlla Che il vostro Il vostro tempo Il vostro tempo sulla terra Non dovrebbe essere Sprecato In tali Inutili Occupazioni Il vostro tempo Sulla terra Figli È solo una parte Del vostro viaggio Verso L'eternità Un genere Di vita Differente Continuerà Per voi Dopo la morte A prescindere Dal fatto Che le persone Credano o meno In Dio Il Padre Eterno La loro Anima Esisterà Anche Dopo la morte Cercate Ora La luce In modo Che la vostra Anima Viva Per l'eternità La vera Felicità E raggiunga Un'elevata Posizione Nel paradiso Per conseguire Questo livello Di santità Spirituale Vi prego Di fare Dei sacrifici Della carne Mentre siete Ancora In vita Sulla terra Offrite Inoltre Tutte le sofferenze Della vostra vita Per le anime Perdute E raccoglierete Le ricompense Che vi aspettano Nella vita Che verrà Il vostro Amorevole Salvatore Gesù Cristo Gesù Nel libro Nel libro Della verità Dice Dovete provare A mantenere Un equilibrio Nella vostra vita Quando siete In unione Con me Attraverso La virtù Della temperanza Possiamo 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 In un equilibrio Nella nostra vita Quotidiana In modo Da poter Servire Il Signore E andare avanti Con le nostre Responsabilità Verso le nostre Famiglie E i propri cari La virtù Della temperanza Ci aiuterà Anche ad essere Misurati E amorevoli A imitazione Di Gesù Nelle nostre Interazioni Con gli altri Ciò Include Essere pazienti E silenziosi Se necessario In risposta A coloro Che ci perseguitano E che rifiutano Gesù E i Suoi insegnamenti Non tagliate I legami Con coloro Che vi odiano A causa mia Mercoledì 25 giugno 2014 Mia amatissima figlia Non vi è alcuna Necessità Che le persone Interrompano Le loro Normali Attività Giornaliere Quando promettono Le realtà A me Io non sono Un Dio Che vi comanda Di cadere Ai miei piedi A scapito Delle vostre Responsabilità Giornaliere Io non mi vanto Non mi ergo Maestosamente Con un atteggiamento Orgoglioso Per governare Il genere Umano Ne Io Detto Ogni Vostra Mossa Tanto Meno Cerco Di costringervi Ad essere I miei Sottoposti Io Io non sono Niente Amore per me E vestire E vestire Voi stessi E le vostre Famiglie Tutto quello Che io Chiedo E che Viviate Le vostre vite In modo In modo da provvedere In modo da provvedere L'indispensabile Allo scopo Di servirmi E mentre Controllo con gli altri Accadrà Con queste persone Siate gentili Siate educati Non preoccupatevi Di discutere Poiché Niente Di ciò Che direte Farà differenza Al contrario Mostrate loro Il significato Del cristianesimo Rispondendo All'odio Con l'amore Non tagliate I legami Con coloro Che vi odiano A causa mia Invece Per favore Pregate Per loro Dovete Provare A mantenere Un equilibrio Nella vostra vita Quando siete In unione Con me Mentre Io desidero La vostra Compagnia Desidero Anche Che Amiate Coloro Che hanno Bisogno Di me Ma che Non possono Vedermi Che In cuor loro Non riescono A trovare Il modo Di accettarmi O che Non hanno Alcuna idea Di cosa Significhi La vita Eterna Il vostro Dovere E verso Di me Ed il mio Desiderio E che voi Usiate Il vostro Tempo Saggiamente Per amare Queste anime Attraverso Attraverso Le vostre Parole Opere Azioni E preghiere Voi potrete Portarmi Queste anime Il vostro Gesù Vangelo Vangelo Di Matteo 13 Versetti 1 9 La parabola Del seminatore Quel giorno Gesù Uscì Di casa E si sedette In riva Al mare Si cominciò A raccogliere Attorno a lui Tanta folla Che dovette Salire su una barca E la porsi A sedere Mentre tutta la folla Rimaneva Sulla spiaggia Egli parlò Loro Di molte cose In parabole E disse Ecco Il seminatore Uscì a seminare E mentre seminava Una parte del seme Cadde sulla strada E vennero Gli uccelli E la divorarono Un'altra parte Cadde In un luogo sassoso Dove non c'era Molta terra Subito germogliò Perché il terreno Non era profondo Ma spuntato il sole Restò bruciata E non avendo radici Si seccò Un'altra parte Cadde sulle spine E le spine Crebbero E la soffocarono Un'altra parte Cadde sulla terra buona E diede frutto Dove il cento Dove il sessanta Dove il trenta Che a orecchi Integno La scala Della perfezione spirituale Mercoledì 24 novembre 2010 Scrivi questo Mia amata figlia La fede La fede È una prova È una prova Che io permetto Può lasciarvi In uno stato di agitazione Perché vi sentirete Perché vi sentirete soli Senza un sostegno Poiché Miei fedeli seguaci Dovete capire questo Io Nonostante la solitudine Nonostante la solitudine Verso la perfezione spirituale Che è il cielo Che è il cielo È una lunga scala E può richiedere E può richiedere un tempo Molto lungo Per raggiungere I gradini più alti Ogni passo Può rappresentare Una nuova rivelazione In quelle lezioni Di cui dovete fare esperienza Prima di poter ottenere Le grazie Di cui avete bisogno Per elevare le vostre anime Alla perfezione spirituale Richiesta per entrare Nel paradiso di mio padre A mano a mano Che si sale ogni gradino Si realizza Quella nuova consapevolezza Che mi aspetto da voi Talvolta Tutto ciò Può sembrare difficile Altre volte ingiusto Ma D'ogni gradino Che salite Diventate più perspicaci Nel comprendere La verità Dei miei insegnamenti Alcuni Salgono questi gradini Rapidamente Mentre altri Si prendono il loro tempo Alcuni dei miei Devoti seguaci Potrebbero perdersi Di coraggio E ridiscendere Di un gradino Due gradini O tre gradini Alla volta Questo è normale Altri Che si muovono Troppo velocemente Acquistano Una fiducia Che li convince Di comprendere Tutte le questioni Spirituali Tuttavia Questo è il modo Presumere Presumere che Siccome la vostra Fede È forte Questo Sia tutta Opera vostra Sì La vostra fede Può essere forte A causa Della vostra Tenerezza Di cuore Eppure Eppure Anche questo È un dono Che viene da me Dovete Per raggiungere Il gradino Più alto Essere umili Essere umili Nel vostro amore Per me Mostratevi Virtuosi In ogni momento Mostrate fiducia Nella vostra fede In ogni modo Poiché Questo Mi è gradito Tuttavia Non cadete mai Nella trappola Di credere Che conoscete Appieno I misteri Del regno divino Come esseri umani Nati Con il peccato Originale Solo il tempo Rivelerà Questi misteri Figli miei Sforzatevi Sempre Di accettare Ogni cosa Anche le prove Che io potrei Mandarvi Come un dono Che viene da me Tutti i miei doni Vengono Elargiti Per rendervi Forti Nel vostro amore Per me Io sono Così tanto Orgoglioso Di tutti i miei figli Che credono in me E mi mostrano Onore Il rispetto Affinché Io possa Innalzarvi Alla piena gloria Del paradiso Di mio padre Avete bisogno Di aspirare Alla gloria Della perfetta Unione In me Per fare Questo Figli miei Ci vuole Un po' Di tempo E occorre E occorre pazienza Prima Di consegnarvi Nel totale Abbandono Della vostra Anima A me Una volta Che ciò Accade Diventate Parte del mio Corpo Abbandonerò Mai I miei amati E devoti Seguaci Mai Il vostro Amorevole Salvatore Gesù Cristo Passiamo ora Ad approfondire La virtù Prudenza Vangelo di Matteo 13 Versetti 18 23 Spiegazione Della parabola Del seminatore Voi dunque Intendete La parabola Del seminatore Tutte le volte Che uno Ascolta La parola Del regno E non la comprende Viene il maligno E ruba Ciò Che è stato Seminato Nel suo cuore Questo È il seme Seminato Lungo la strada Quello che è stato Seminato Nel terreno Sassoso È l'uomo Che ascolta La parola E subito L'accoglie Con gioia Ma non ha radice In sé Ed è incostante Se che Appena giunge Una tribolazione O persecuzione A causa Della parola Egli ne resta Scandalizzato Quello seminato Tra le spine È colui Che ascolta La parola Ma la Preoccupazione Del mondo E l'inganno Della ricchezza Soffocano La parola Ed essa Non dà frutto Quello seminato Nella terra buona È colui Che ascolta La parola E la comprende Questi dà frutto E produce ora Il cento Ora il sessanta Ora il trenta Vangelo di Matteo 16 27 Poiché il figlio Dell'uomo Verrà nella gloria Del padre suo Con i suoi angeli E renderà a ciascuno Secondo le sue azioni Dal catechismo Della chiesa cattolica Paragrafo 1806 La prudenza È la virtù Che dispone La ragione pratica A discernere In ogni circostanza Il nostro vero bene E a scegliere I mezzi adeguati Per compierlo L'uomo Accorto Ancontro I suoi passi Siate moderati E sobri Per dedicarvi Alla preghiera La prudenza È la retta norma Dell'azione Scrive Sant'Ommaso Sulla scia Di Aristotele Essa non si confonde Con la timidezza O la paura Né con la doppiezza O la dissimulazione È detta Origa virtutum Cocchiere Delle virtù Essa dirige Le altre virtù Indicando Loro Regola E misura È la prudenza Che guida Immediatamente Il giudizio Di coscienza L'uomo prudente Decide e ordina La propria condotta Seguendo questo giudizio Grazie alla virtù Della prudenza Applichiamo i principi Morali Ai casi particolari Senza sbagliare E superiamo I dubbi Sul bene Da compiere E sul male Da evitare Come discepoli Come discepoli Di Gesù Che seguono Il libro Della verità La virtù Della prudenza Ci aiuta A usare Il nostro Libero arbitrio Per prendere Decisioni Conformi Alla volontà Di Dio Quando guardiamo I inganni Del diavolo La prudenza La prudenza Nell'obbedienza A Gesù In questa missione Significa Tenere lo sguardo Concentrato In questo momento Sui messaggi E sulle preghiere Del libro Della verità Tutta la guida Di cui abbiamo bisogno Per sopravvivere Alla fine Dei tempi E salvare Le anime È contenuta Nel libro Della verità Questa concentrazione Sulla guida E sull'istruzione Contenute Nel libro Della verità Eviterà Confusione Nelle azioni Che intraprendiamo Inoltre Impedisce A noi stessi E agli altri Che potremmo Influenzare Di seguire La via sbagliata Verso la vita Eterna Vangelo di Matteo 12 30 Chi non è con me È contro di me E chi non raccoglie Con me Disperde Vangelo di Matteo 24 Versetti 3 4 Sedutosi poi Sul monte Degli olivi I suoi discepoli Li si avvicinarono E indisparse Li dissero Dicci Quando Accadranno Queste cose E quale sarà Il segno Della tua Venuta E della fine Del mondo Gesù rispose Guardate Che nessuno Vi inganni Estratto Da un messaggio Privato A Maria Della Divina Misericordia 1 marzo 2013 Messaggio da parte Di Gesù Figlia mia Non devi permettere La promozione Di altri Cosiddetti Profeti Come parte Di questa Mia Santa Missione L'ultimo Del suo genere Per salvare L'umanità Lo proibisco Io Devo Avvertire Il mondo Del gran Numero Di falsi Profeti Che in Questo Momento Cerca Di soffocare La mia Voce Giovedì 22 Agosto 2013 Mia Amatissima Figlia Io Devo Avvertire Il mondo Del gran Numero Di falsi Profeti Che in Questo Momento Cerca Di soffocare La mia Voce Ho Inviato Una Serie Di Profeti Tutti Con Missioni Diverse Per Preparare I Figli Di Dio Questi Messaggi Riguardanti La Fine Dei Tempi In Questo Preciso Momento Sono Gli Unici Messaggi Autentici Nel Loro Genere Perché Io Non Confonderei Mai I Figli Di Dio Questi Messaggi Non Devono Mai Essere Confrontati Con Gli Altri Che Vengono Diffusi In Ogni Luogo Proprio Adesso Allo Scopo Di Contraddire La Mia Santa Parola Ci Può Essere Solamente Un Libro Della Verità Solo Io Gesù Cristo L'Agnello Di Dio Posso Rivelarne Il Contenuto Quelli Di Voi Che Credono In Me Possono Essere Ingannati Assai Facilmente Dovete Rendervi Conto Che I Messaggi I Quali Contraddicono Questi Ed In Cui Viene Affermato Che Essi Provengono Da Dio Non Possono Essere Credibili Vi Fidate Poco Di Me Oppure Mi Abbracciate Come Io Desidero Da Voi Con Il Cuore Completamente Aperto Io Faccio Appello A Voi Con Amore E Preoccupazione Non Cerco Di Fare Appello Alla Vostra Intelligenza Io Vi Chiamo Attraverso Il Vostro Cuore E Attiro La Vostra Anima A Me Se Sentite La Mia Presenza In Questi Messaggi Allora Non Vi Alcun Bisogno Di Cercare Sostegno O Approvazione Da Parte Di Nessun Altro Io Sono Così Come Sono Io Ora Sto Dinanzi A Voi Com'era Destino Che Succedesse Mio Padre Non Mi Avrebbe Mai Permesso Di Rivelare Il Contenuto Del Libro Della Rivelazione A Nessun Altro Ma Solo Al Settimo Messaggero Dato Che Questo Giorno È Arrivato Molti Veggenti Autentici In Passato Hanno Trasmesso Al Mondo La Parola Di Dio E Sofferto Terribilmente Per Questo Molti Ricevono Tuttora Consolazione Da Me Ed Io Continuerò A Comunicare Con Loro Perché Ho Bisogno Della Loro Sofferenza E Delle Loro Preghiere Essi Sono Le Mie Anime Elette Ed Ognuno Ha Un Ruolo Da Svolgere Nel Salvare Le Altre Anime Questa Missione È L'ultima Io Adesso Nel Presente Vi do Istruzione Affinché Prestiate Attenzione Alla Mia Parola Solo La Mia Parola Rivelata A voi Per mezzo Di questi Messaggi Vi Guiderà Durante Tutta Tutta La Persecuzione Unitamente Ad essi Io Vi Porto Delle Grandi Grazie Non Dovete Mai Insultarmi Contaminandoli Quando Metterete Alla Prova La Mia Parola E Quando Paragonerete I Miei Messaggi Alla Finzione Presentata Dai Falsi Profeti Non Avete Bisogno Che Qualcuno Vi Guidi Verso La Mia Grande Misericordia Adesso Dovete Solo Concentrarvi Su Questi Messaggi E Rimanere Leali Ai Miei Insegnamenti Di Un Tempo Perché Essi Sono La Vostra Ancora Di Salvezza Il Vostro Gesù La Mia Parola E La Finale E Definitiva Non Può Esserci Alcun'altra Parola Lunedì 13 Maggio 2013 La Mia Parola E La Finale E Definitiva Non Può Esserci Alcun'altra Parola Chiunque Proclami Di Parlare In Mio Nome Da Quando Questa Missione È Iniziata Nel Novembre 2010 Non Ha L'autorità Per Farlo Perché Egli Non Viene Da Me Sappiate Che L'esercito Di Satana Comprende Parecchi Falsi Profeti Che Parlano Con Voce Dolce Carezzevoli Amorevoli E Mimetizzati Dalle Promesse Vuote Essi Diranno L'esatto Contrario Di Quello Che Vi Dico Io Sappiate Che Solo La Mia Voce Vi Dirà La Verità Solo La Mia Voce Vi Comunicherà Gli eventi Futuri Che Avranno Luogo Nessun Altro Lo Può Fare Ne Gli Sarà Data L'autorità Di Parlare Per Me Gesù Cristo O Per Conto Del Mio Amato Padre Consolatevi Con Questa Rivelazione E Sappiate Che Solo La Santa Trinità Comunica In Questo Modo Con Un Fuoco Che Travolgerà Tutte Le Anime Che Sono Libere Dall'orgoglio E Piene Di Umile Amore Per Me Il Vostro Gesù Mai Prima D'ora Dal Fissione Il Cristianesimo Ha subito Una Simile Persecuzione Mercoledì 6 Maggio 2015 Questo Può Essere Un Tempo Di Confusione Divisione Tristezza E Di Bramosa Attesa Per Coloro Che Mi Rappresentano Su Questa Terra E Che Proclamano La Verità Ma Sappiate Quanto Segue Io Sono La Verità La Verità Non Muore Mai Il Mio Regno Eterno E Voi Miei Amati Figli Appartenete A Me Venite Restate Vicini A Me Io Vi Condurrò Fino Alla Vostra Legittima Eredità Confidate In Me Ascoltatemi Attraverso Questi Messaggi Il Libro Della Verità E Un Dono Di Dio Per Voi Così Che Non Dimentichiate Mai La Mia Promessa Di Ritornare A Giudicare I Viventi Quelli Che Sono Vivi Su Questa Terra Così Come Coloro Che Sono Morti Nel Mio Favore Io Adesso Mostrerò Dei Segni Di Ogni Genere In Tutto Il Mondo Coloro Che Sono Stati Benedetti Con Il Dono Dello Spirito Santo Sapranno Che Essi Vi Sono Dati Secondo Il Comando Del Mio Amato Padre Andate In Pace Adesso Datemi Ascolto Solo Attraverso Questi Messaggi Io Vi Amo Tutti Moltissimo E Vi Ho Rivendicati Come Miei Non Consentite Ad Alcun Uomo Di Tentare Di Sottrarmi Una Singola Anima Poiché Egli Soffrirebbe Il Tormento Eterno A Causa Delle Sue Azioni Il Vostro Gesù Attraverso Il Nostro Libero Albitro E La Virtù Della Prudenza Possiamo Scegliere Di Essere Obedienti All'istruzione Di Gesù Dove Dice Chiaramente Andate In Pace Adesso Datemi Ascolto Solo Attraverso Questi Messaggi Tenendo Questo In Mente Nella Prossima Sezione Utilizzando L'applicazione Pratica Della Prudenza Evidenzieremo Alcune Istruzioni Chiave E Messaggi Forniti Nel Libro Della Verità Sulla Preparazione Materiale E Spirituale Per L'Avvertimento La Persecuzione E Il Grande Castigo Che Seguiranno L'Avvertimento Iniziamo Con la Preparazione Materiale Spirituale All'Avvertimento L'Illuminazione Della Coscienza Ogni Persona In Vita Nel Mondo Vedrà La Sua Anima E Saprà Per La Prima Volta In Molti Casi Di Averne Una Lunedì 9 Luglio 2012 Mia Amatissima Figlia Io Vorrei Ora Preparare Tutti I miei Seguaci In Un Modo Che Non Aiuterà Solo Loro Ma Tutti I Loro Amati Per L'Avvertimento Non È Sufficiente Pentirsi A Causa Della Paura Una Penitenza È Necessaria Riguardo A Tutti Voi Miei Seguaci Esaminate Subito Le Mie Istruzioni Per Preparare Le Vostre Anime All'Avvertimento Riguardo Ai Cattolici Tra di Voi Devono Ricevere Il Sacramento Della Della Confessione Ogni Due Settimane Se Desiderano Rimanere Nello Stato Di Grazia In Questo Modo Il Vostro Dolore Durante L'Avvertimento Sarà Sarà Lieve Sarà Avrete La Forza Di Aiutare I Vostri Fratelli E Le Sorelle Che Soffriranno Un Dolore Terribile E Il Senso Di Colpa Mentre Cercheranno Di Venire A Patti Con L'Illuminazione Della Loro Coscienza Quanto A Quelli Tra Di Voi Che Sono Cristiani O Di Altre Fedi E Che Credono In Questi Messaggi Devono Recitare La Preghiera Data A Voi Attraverso La Preghiera Della Crociata 24 Dell'indulgenza Plenaria Per L'assoluzione Dovete Dire Questa Preghiera Per Sette Giorni Consecutivi E Io Il Vostro Gesù Vi Garantirò L'assoluzione O Mio Gesù Tu Sei la Luce Della Terra Tu Sei la Fiamma Che Tocca Tutte Le Anime La Tua Misericordia E Il Tuo Amore Non Conoscono Confini Noi Non Siamo Degni Del Sacrificio Che Hai Fatto Con La Tua Morte Sulla Croce Ma Sappiamo Che Il Tuo Amore Per Noi È Più Grande Dell'amore Che Noi Abbiamo Per Te Concedici O Signore Il Dono Dell' Umiltà Così Da Essere Degni Del Tuo Nuovo Regno Riempici Di Spirito Santo Così Possiamo Marciare Avanti E Condurre Il Tuo Esercito Per Proclamare La Verità Della Tua Santa Parola E Per Preparare I Nostri Fratelli E Sorelle Alla Gloria Della Tua Seconda Venuta Sulla Terra Noi Ti Onoriamo Ti Lodiamo Ti Offriamo Noi Stessi I Nostri Dolori E Le Nostre Sofferenze Come Un Dono A Te Per Salvare Le Anime Noi Ti Amiamo Gesù Abbi Pietà Di Tutti I Tuoi Figli Ovunque Possano Trovarsi Amen Io Ora Vi Trasmetto Anche Una Preghiera Speciale Da Recitare Per Quelle Povere Anime Che Possono Morire Di Shock Durante L'Avvertimento E Che Potrebbero Trovarsi In Peccato Mortale Preghiera Della Crociata 65 Per Coloro Che Sono In Peccato Mortale Oh Caro Gesù Salvatore Dell'umanità Per Mezzo Della Tua Divina Misericordia Io Imploro Clemenza Per Tutte Quelle Povere Anime Nel Peccato Che Potrebbero Essere Prese Da Questa Terra Durante L'Avvertimento Perdona Perdona Loro Peccati E In Memoria Della Tua Passione Ti Supplico Di Concedermi Questa Particolare Benevolenza In Espiazione Dei Loro Peccati Io Io Offro A Te In Mente Corpo E Anima Quale Penitenza Per Salvare Le Loro Anime E Per Portarle Alla Vita Eterna Amen Miei Seguaci L'Avvertimento Sarà Un Grande Evento Di Salvezza In Cui Io Proverò Al Mondo La Mia Divina Misericordia Ogni Persona In Vita Nel Mondo Vedrà La Sua Anima E Saprà Per La Prima Volta In Molti Casi Di Averne Una Il Tempo Ora È Breve E Voi Dovete Iniziare A Preparare Non Dimenticate Le Mie Istruzioni Di Disporre Di Cibo Che Duri Per Dieci Giorni Candele Che Siano State Benedette E Oggetti Sacri Nella Vostra Casa Abbiate Fiducia In Me E Rallegratevi Perché Molte Anime Saranno Salvate Io Non Rivelerò Una Data Ma Voi Sapete Ciò Che Deve Essere Fatto Quando I Vostri Peccati Saranno Rivelati Dovrete Chiedermi Di Perdonarvi E Di Inchinarvi In Umile Ringraziamento Per Questo Dono Divino Che È Il Vostro Passaporto Verso La Vita Eterna Nel Nuovo Paradiso Sulla Terra Ricordatevi Che Non C'è Peccato Non Importa Quanto Grave Che Non Possa Essere Perdonato Quando Viene Mostrato Il Vero Rimorso Il Vostro Amato Salvatore Gesù Cristo Passiamo Ora A Considerare La Preparazione Per Il Dopo Avvertimento Conseguenze Dell'Avvertimento Giovedì 29 Settembre 2011 Preparate Le vostre Case Con le Candele Benedette E Una Scorta Di Acqua E Cibo Che Duri Per Un Paio Di Settimane Il Periodo Successivo Sarà Difficile Ma Voi Non Dovete Essere Spaventati Invece Siate Rincuorati Perché La Sofferenza Deve Sere Offerta Ringraziamento Per La Vita Eterna La Quale Viene Ora Concessa Alle Mie Preziose Anime Che Accolgono Questo Grande Dono Il Vostro Amato Gesù Salvatore Il Redentore Dell' Intera Umanità Rallegratevi Quando Il Cielo Esploderà Poiché Saprete Che Io Sto Arrivando Domenica 2 Ottobre 2011 Mentre Io Vengo Così Anche Satana E I Demoni Verranno Dall'Inferno I Quali Cercheranno Di Divorare Le Anime Dei Miei Figli Ecco Perché Vi Esorto Tutti Ad Aspergere La Vostra Casa Con L'Acqua Santa E Ad Avere Le Candele Benedette Dapertutto Dovete Mantenervi Protetti Il Vostro Salvatore Gesù Cristo Dopo Che L'avvertimento Avrà Avuto Luogo Ci Sarà Molta Confusione Martedì 17 Luglio 2012 D'ora In Avanti Assicuratevi Di Tenere L'Acqua Santa Nelle Vostre Case Ed Una Croce Benedettina Insieme Al Sigillo Del Dio Vivente Appeso In Esse Ognuna Di Queste Cose Proteggerà La Vostra Famiglia Seguite Le Mie Istruzioni E Andrà Tutto Bene Il Vostro Amato Gesù Vediamo Ora Alcune Indicazioni Per la Preparazione Per il Grande Castigo La Persecuzione E Per Evitare Di Accettare Il Marchio Della Bestia Il Padre Eterno Impedirà Al Nuovo Ordine Mondiale La Persecuzione Finale Dei Suoi Figli Venerdì 8 Luglio 2011 Organizzate Subito Le Vostre Scorte Di Cibo Comprate E Coltivate I Semi Che Vi Terranno In Vita Acquistate Monete D'Argento O D'Oro In Modo Da Poter Comprare Ciò Che È Necessario Cosa Più Importante Trovate I luoghi In cui Conforme A un Gruppo Potete Incontrarvi Per Offrire Il Santo Sacrificio Della Messa E In Quanto Con Il Tempo Le Vostre Chiese Saranno Rase Al Suolo Proponetevi Di Tenere Le Candele Benedette Nella Vostra Casa Fate Scorta Adesso Perché Vi Custodiranno Nella Luce Della Protezione Comprate Le Stufe A Gas Le Coperte Il Cibo Secco E In Scatola Le Compresse Per La Potabilizzazione Dell'acqua E Le Candele Insieme Alle Immagini Religiose Per Sostenere Voi E Le Vostre Famiglie Durante Il Grande Castigo Il Quale Verrà Dopo L'Avvertimento Il Vostro Amato Gesù Salvatore Dell'Umanità Redentore Del Mondo Molti Di Voi Che Dicono Di Servire Me Non Sono Idonei A Stare In Piedi E Dichiararsi Servitori Di Dio Sabato 31 Agosto 2013 Mia Amatissima Figlia Qualche Tempo Fa Io Dissi A Tutti Voi Di Piantare Dei Semi Al Fine Di Nutrire Voi E Le Vostre Famiglie Durante La Persecuzione Dico Ciò Per Una Ragione Voi Dovete Piantare Anche Solo Pochi Semi Semi Puri Che Non Siano Stati Manomessi Dalla Mano Dell'Uomo Io Poi Moltiplicherò Il Frutto Che Produrranno E Tutti Avranno Abbastanza Da Mangiare Nel Tempo In Cui Il Mondo Sperimenterà Una Grande Carestia Queste Terribili Prove Saranno Causate Dalla Diffusione Del Male Ma Molte Persone Sopravviveranno Se Avranno Fiducia In Me Dovete Prepararvi Ora Come Se Una Guerra Fosse Alle Porte E Come Fareste Se Il Cibo Fosse Razionato Rifornitevi Di Acqua In Abbondanza Perché Qualsiasi Cosa Voi Metterete Da Parte Io La Moltiplicherò Vi Prego Di Non Pensare Che Io Vi Stia Chiedendo Di Lasciare Le Vostre Case Perché Questo Non È Necessario Un Po Di Preparazione Con Cui Voi Offrirete Aiuto Gli Uni Agli Altri E Tutto Quello Che Serve Il Mio Preziosissimo Sangue Ricoprirà Tutti Coloro Che Credono Nel Mio Avvertimento All'umanità Poiché Il Momento Dell'Apertura Del Terzo Sigillo Seguirà Ad un Periodo Di Guerra Il Vostro Salvatore Gesù Cristo Consideriamo Ora Le indicazioni Del Libro Della Verità A Riguardo Del Sigillo Del Dio Vivente Il Sigillo Dell'amore E Della Protezione Di Dio Dio Padre Alzatevi ora E accettate il mio sigillo Il sigillo del Dio vivente Lunedì 20 febbraio 2012 Io vi prometto che la persecuzione sarà rapida e che sarete protetti, poiché ora io lascio in eredità il sigillo del mio amore e della mia protezione. Con questo sfuggirete all'attenzione di coloro che provocheranno delle avversità nei vostri paesi. Il mio sigillo è la mia promessa di salvezza. Il mio potere fluirà in voi con questo sigillo e nessun male vi raggiungerà. Questo è un miracolo, figli, e solo coloro che si inchinano dinanzi a me, il loro Signore e creatore di tutte le cose, come i bambini piccoli che hanno amore per me nei loro cuori, possono essere benedetti con questo dono divino. Alzatevi ora E accettate il mio sigillo Il sigillo del Dio vivente Recitate questa preghiera della Crociata 33 Per riconoscere il mio sigillo E accettarlo con amore, gioia e gratitudine O mio Dio Padre mio amorevole Accetto, con amore e gratitudine Il tuo divino sigillo di protezione La tua divinità Avvolge il mio corpo E la mia anima per l'eternità Io mi inchino in umile ringraziamento E ti offro il mio profondo amore E la mia fedeltà Mi ama tuo Padre Ti supplico di proteggere me e i miei cari Con questo sigillo speciale E impegno la mia vita al tuo servizio per sempre Io ti amo, caro Padre Ti consolo in questi tempi, caro Padre Ti offro il corpo, il sangue L'anima e la divinità Del tuo elettissimo figlio In espiazione dei peccati del mondo E per la salvezza di tutti i tuoi figli Amen Il 666 Il suo numero nascosto Sarà incorporato in un microchip Venerdì Primo giugno 2012 Mia amatissima figlia L'anticristo sta già preparando il suo piano di pace Che presenterà poco dopo che le guerre diventano diffuse nel Medio Oriente E quando il dolore e la terribile angoscia Lasciano intendere che non ci sia più alcun segno di speranza Egli, quindi, apparirà improvvisamente E annuncerà se stesso al mondo Quale uomo di pace Una gemma lucente Che scintillerà in mezzo alle tenebre Mentre emerge Sarà considerato Come uno dei più carismatici leader politici Di tutti i tempi La sua personalità Avvenente Accattivante E primurosa Ingannerà la maggior parte delle persone Egli emanerà amore e compassione E sarà considerato un cristiano Con il passare del tempo Attirerà molti seguaci Che cresceranno di numero Tanto da diventare come me Il Messia Lo si vedrà promuovere l'unità Tra tutte le nazioni E sarà amato in quasi tutti i paesi del mondo In seguito Sarà considerato avere delle capacità soprannaturali Molti Crederanno che sia stato inviato dal Padre mio E che si tratti di me Gesù Cristo Il Salvatore del mondo Lo pregheranno Lo ameranno Per Lui rinunceranno alle loro vite Ed Egli riderà E si prenderà gioco di loro Quando non possono vederlo Questo Sarà il più grande inganno Di tutti i tempi Il piano È quello di rubare le vostre anime Per portarvi via da me Egli E il falso profeta Che siederà come un re Nel trono di Pietro Progetteranno In segreto Un'unica religione mondiale Questa Sembrerà essere Una religione Di tipo cristiano Che promuove l'amore Essa tuttavia Non promuoverà l'amore L'uno con l'altro Che viene da Dio Invece promuoverà l'amore E la fedeltà all'anticristo E all'amore di sé L'abominio Non si fermerà lì Poiché quando i figli di Dio Saranno stati sedotti Inizierà L'attacco All'improvviso Verrà richiesto a tutti Di accettare L'unico marchio mondiale Di fedeltà Un mondo unito A cui tutti gli uomini Dovranno prendere parte Questo Terrà sotto controllo Il vostro denaro Il vostro accesso al cibo E il modo In cui vivete Le regole Molte di loro Comporteranno Che diventiate prigionieri La chiave Della vostra cella La quale vi tiene Sotto il loro controllo Sarà Il marchio della bestia Una volta incorporato Esso Avvelenerà Non solo la vostra mente La vostra anima Ma il vostro corpo Poiché causerà Una piaga Concepita per spazzare via Gran parte Della popolazione Del mondo Non dovete accettare Il marchio Invece vi spiegherò io Cosa fare Molti Accetteranno il marchio Perché si sentiranno Indifesi Il sigillo del Dio vivente La mia preghiera Della crociata 33 E la vostra ancora di salvezza Quando ricevete Il mio sigillo di protezione Dato a voi Dal mio eterno padre Non dovrete accettare il marchio Voi non sarete toccati La vostra casa Non sarà vista Né cercata Né sarà un bersaglio Perché verrà resa invisibile Agli occhi Dell'esercito di Satana Dovrete tenere Nascosto del cibo Che durerà Per alcuni anni Avrete bisogno Di coltivare I vostri raccolti Immagazzinare La vostra acqua E tenere Tutti gli oggetti sacri Intorno a voi La mia chiesa rimanente Crescerà Si espanderà E vi sarà dato rifugio Se necessario Ora È indispensabile Molta pianificazione Coloro che ridono Di ciò che fate Oppure dicono Gesù di certo Non vi chiederebbe mai Di fare tutto ciò Non provvede egli A tutti i suoi seguaci Nel momento In cui hanno bisogno Persino Un solo pane E un solo pesce Possono essere moltiplicati Quindi Non importa Se voi Avete soltanto Un po' di cibo Poiché Io vi proteggerei E sareste al sicuro Pregate intensamente Per quelle anime Che non saranno In grado Di evitare il marchio Saranno salvate Quelle anime Innocenti Che si trovano In stato di grazia Nel momento In cui Vengono costrette Ad accettare Il microchip Il resto di voi Deve fare I piani Per proteggere La propria famiglia E la propria Fedeltà Alla Santa Eucaristia E alla Messa Quando l'Anticristo Divorerà Tutte le religioni Le uniche armi Contro le quali Sarà impotente Sono La Santa Messa E la transustanziazione Del pane Del pane E del vino Nel mio corpo E nel mio sangue Nella Santa Eucaristia Le mie messe Devono continuare Quelli di voi Che lo sanno Ora Devono radunarsi In gran numero E cominciare I preparativi Prima Vi preparerete Più grazie Vi saranno donate Per far crescere Le vostre fila In tutto il mondo Il vostro Salvatore Gesù Cristo Quattro potenti Imperi Emergeranno Come la fonte Principale Da cui Sormonteranno Le guerre Sabato 21 Settembre 2013 Il sigillo Del Dio Vivente Vi proteggerà Vi proteggerà Dalla morte Fisica E spirituale Durante le guerre Vi prego Di farlo avere A quante più persone Potete In ogni nazione Il vostro Gesù Vediamo ora Ciò che il libro Della verità Ci suggerisce Per la protezione Della chiesa Essi Devono Conservare I santi messali I paramenti La sacra Bibbia E le croci sante Questi Saranno Tutti Sostituiti Sabato 17 Agosto 2013 Mia Amatissima Figlia Molti di coloro Che sono stati Benedetti Con una forte Fede E amore Per me Gesù Cristo Stanno Finalmente Cominciando A riconoscere La mia voce Mentre parlo Al mondo Attraverso Questi messaggi E così Comincia La battaglia Da un lato Per fare La mia Santa volontà E dall'altro Il desiderio Dei nemici Di Dio Di combattere Contro di me Coloro Che stanno Progettando Di infliggere Sofferenza All'umanità Quale parte Di un patto Con la bestia Faranno Attenzione A non essere Visti Nel denunciare Questi messaggi Pubblicamente Poiché Così facendo Darebbero Loro credito Invece Diffonderanno L'odio Verso di me In altri modi Cominciando Con il distruggere La fede Di quelli Che sono All'interno Della mia Chiesa Essi Faranno Volgere I cuori Di coloro Che mi Amano Contro I loro Compagni Cristiani Accoglieranno I pagani Gli stregoni New Age E gli adoratori Della bestia Piuttosto Che i cristiani I quali Si opporranno Agli ignobili Rituali Pagani Che verranno Eseguiti Nelle chiese Cattoliche E presto Nelle altre Chiese Cristiane Questi eventi Devono ancora Venire Vi prego Di non pensare Che le attuali Sante messe O i sacramenti Siano già cambiati Anche se Cambieranno Molto presto Quando lo faranno Voi dovete Voltare Le spalle E difendermi Molti cambiamenti Sono stati Pianificati Nel corso Degli ultimi anni Dalla malvagità Della massoneria Presente Nella mia Chiesa Sulla terra Ora I loro Piani Già resi Noti Nei più Alti ranghi Delle chiese Sono in procinto Di essere Annunciati Saranno Svelati Con l'annuncio Che la chiesa Cattolica Viene Modernizzata Cosicché Possa diventare Rilevante Nella nuova Società Di oggi Dalla mentalità Aperta E liberale Si dirà Che bisogna Mettersi Il passato Alle spalle E si dirà Anche Che il suo Motto Sarà di Accogliere Tutte le fedi Per dimostrare Che non ha Un atteggiamento Ristretto Questo annuncio Sarà celebrato In tutto il mondo Ed i media Illustreranno Questa grande Notizia Sulle prime Pagine Mentre prima Consideravano La chiesa Cattolica Con avversione Il seme Di satana Sarà usato Nelle nuove Cerimonie Dove la struttura Delle sante messe Sarà presentata Al contrario Però Tutte le frasi Corrette Relative Alla mia Passione Verranno Sostituite Con delle Sciocchezze Parole Vuote Vasi Vuoti Tabernacoli Vuoti Tutte le mie Croci Saranno Sostituite Con i simboli Segreti Dell'Occulto Questa È la desolazione Di cui Ha parlato Il profeta Daniele Questa È la fine Della mia Santa Eucaristia E la fine Della Messa Come la conoscete In molti luoghi Tuttavia I miei amati E leali servitori Prepareranno Subito La produzione Delle sante Ostie Essi Devono Conservare I santi Messali I paramenti La sacra Bibbia E le croci Sante Questi Saranno Tutti Sostituiti Dovete Raccogliervi Al più Presto E pianificare Perché Non vi sarà più Permesso Di dire La messa Secondo La mia Volontà Io vi guiderò Miei servitori Consacrati Quando verrà Il momento Quanto A quei cristiani Che credono Che questo Abominio Sarà visto Solo Nella chiesa Cattolica Ebbene Sappiano Che questo Interesserà Tutte le chiese Cristiane Fino a quando Non metteranno Al bando Ogni Menzione O segno Di me Il vostro Gesù I cattolici Romani Dovranno Celebrare le messe Nei rifugi O nelle chiese Sicure Sabato 11 novembre 2012 Voi Miei discepoli Avrete bisogno Di radunarvi E conservare Le ostie Della comunione Perché saranno Di difficile Accesso Il vostro Gesù Madre Madre della salvezza Questa guerra Per sostenere La parola Di Dio Comporterà Che quei sacerdoti Che rimangono Fedeli a lui Dovranno Cercare I rifugi Lunedì 5 agosto 2013 Questa guerra Per sostenere La parola Di Dio Comporterà Che quei sacerdoti Che rimangono Fedeli a lui Dovranno Cercare Rifugio Per fare Questo Dovete Iniziare A prepararvi E trovare Tali luoghi Dove Sarete in grado Di offrire La santa Messa E provvedere I sacramenti Ai figli Di Dio Io La madre Della salvezza Proteggerò Tali rifugi E con la posizione Del sigillo Del Dio vivente Donato al mondo Dal padre mio Sulle pareti interne Rimarranno Invisibili Ai nemici Di Dio La vostra Amata madre Madre Della salvezza Rilassatevi Tutti voi E sappiate Che Dio È sempre potente E non c'è azione Per quanto malvagia Che non possa essere Calpestata Da Lui Venerdì 11 ottobre 2013 Oggi Io chiedo A tutti coloro Che accettano Il fatto Che io ora Sto parlando A tutto il mondo Attraverso Il libro Della verità Di prepararsi Non permettete Non permettete mai Che i miei messaggi Vi causino Preoccupazione Inquietudine O panico Non dovete mai pensare Che io potrei Chiedervi di fuggire Dalle vostre case E verso i rifugi Perché questo comando Non verrebbe da me I rifugi Di cui io parlo Sono quei luoghi In cui dovrete andare Per poter assistere Alla messa E ricevere i sacramenti I miei leali servitori Ora Si stanno preparando In tutto il mondo Per quel giorno Che verrà Durante il quale Il sacrificio Quotidiano Della messa Non ci sarà più Dovete tenere Sempre Il sigillo Benedetto Del Dio vivente Nelle vostre case E in qualsiasi Formato Voi possiate Allo scopo Di portarlo Anche con voi Questo Vi proteggerà Da qualunque Genere di persecuzione E otterrete La forza Necessaria Per rimanere Fedeli a Dio E ad ogni cosa Che è stata Stabilita Chiaramente Nella Santissima Bibbia Rilassatevi Tutti voi E sappiate Che Dio È sempre potente E che non c'è azione Per quanto Malvagia Che non possa Essere Calpestata Da Lui Quelli di voi Che scelgono Di rispondere Alla mia chiamata Sono benedetti Voi Voi Alcuni può essere Schiacciate Io Sono il vostro Protettore Il vostro Salvatore E verrò Presto Per portarvi Sia la salvezza Sia la salvezza finale Sia il mondo Che verrà In cui Non esisterà più Il male Rimanete Nella pace Io Vi guiderò Vi proteggerò Tutti E vi darò Il dono Della perseveranza In tutte Le prove Future Il vostro Gesù Mercoledì 27 marzo Nella seconda parte Di questo ritiro Continueremo Con l'esaminare L'applicazione pratica Della virtù Della prudenza Mentre Continuiamo A evidenziare Alcune istruzioni Chiave E messaggi Dati nel libro Della verità Sulla preparazione Materiale E spirituale Rifletteremo Poi Sulle virtù Della giustizia E della fortezza Alla luce Dei messaggi Del libro Della verità E su come Queste virtù Possono aiutarci In questa missione Di salvezza Concludiamo Il primo giorno Rileggendo La parabola Che ha aperto Il ritiro Del servo Buono e fedele Riflettendo Personalmente Su questa parabola E tenendo bene In mente Tutto ciò Che abbiamo Imparato oggi Vangelo Di Matteo 7 Versetti 24 27 I veri Discepoli Perciò Chiunque Ascolta Queste mie Parole E le mette In pratica È simile A un uomo Saggio Che ha costruito La sua casa Sulla roccia Cadde la pioggia Strariparono I fiumi Soffiarono I venti E si abbatterono Su quella casa Ed essa Non cadde Perché era Affondata Sopra la roccia Chiunque Ascolta Queste mie Parole E non Le mette In pratica È simile A un uomo Stolto Che ha costruito La sua casa Sulla sabbia Cadde la pioggia Strariparono I fiumi Soffiarono I venti E si abbatterono Su quella casa Ed essa Cadde E la sua rovina Fu grande Vi ringraziamo Tutti Per aver partecipato A questo primo giorno Del ritiro quaresimale Del servo buono E fedele Ci vedremo Di nuovo Mercoledì 27 Marzo Alla stessa ora Per il secondo giorno Buona serata Dio benedica a tutti